coraggio ora voi provate con me vedrete che poi difficile non è se mettendo un po d'acqua sul viso insieme a me fate brrrr adesso il sapone con quello si fa un quel po' di schiuma e quando se ne ha abbastanza si spalma sul viso poi si fa brrrr con mani imbagliate e ben saponate sfregate per chi bisogno ce n'è avrete un po' di freddo però non è brutto in fondo pulirsi un po' muovete via lì presto perché il pranzo di là ci aspetta di già tutti i vecchi caproni che schepa mi fa quel brrr 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 un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.